Vederla vuota è nel più totale silenzio un colpo al cuore, ci troviamo a Biceglie in una delle più importanti discoteche d'Italia, il DF Disco per lunghi anni di vine follie, come tante altre strutture notturne da ballo, il DF è chiuso da 17 mesi e continuerà ad esserlo in virtù delle recenti decisioni del governo. La speranza era quella di poter riaprire in questi giorni, tant'è che il DF Disco era a lavoro con i propri operai per gli ultimi ritocchi di manutenzione. Ci aspettavamo una risposta positiva in merito alla ripartenza del mondo della notte, soprattutto in virtù del fatto che il CTS si era espresso in modo favorevole qualche giorno fa, quindi lo davamo quasi per scontato che il governo avrebbe comunque accolto anche il parere favorevole del CTS. Invece ieri ci è arrivata, come dicevi, la doccia fredda e infatti ad oggi non abbiamo alcuna data certa per una possibile ripartenza, considerando anche che il CTS aveva già indicato delle linee guide per le ripartenze, che erano appunto il green pass, erano i tamponi, nelle 48 ore prima, erano il tracciamento e quindi erano tutte delle misure che potevano garantire la piena sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti all'interno delle discoteche. Differentemente da quello che ormai sta accadendo ovunque, visto che si balla in tutti i posti che non sono autorizzati, quindi senza alcun controllo e senza alcuna sicurezza. Un indotto che tra dipendenti, PR, DJ, artisti, operatori del settore tocca alle 90.000 persone in tutta Italia. Ci si prepara per questo ad una grande manifestazione a Roma a Palazzo Chigi. Immaginate un'azienda chiusa da 17 mesi senza alcuna prospettiva come può stare l'azienda e i dipendenti che comunque ci lavoravano. Proprio ieri avevamo fatto una campagna, avevamo fatto un Vax Day a Molfetta presso il lab vaccinale, la Network Contact, dove abbiamo fatto vaccinare più di 500 ragazzi tra i nostri dipendenti e collaboratori, proprio perché ci stavamo preparando a una possibile ripartenza in sicurezza. Però questo non è stato possibile, il governo continua a rimandarci come se noi non esistessimo. Infatti ci stiamo organizzando, è un discorso di poche ore fa, a livello nazionale, per una manifestazione da svolgersi proprio la settimana prossima a Roma. Perché ormai siamo veramente stanchi di questa situazione.